Ragazzi, io direi di dare quindi il benvenuto al primo ospite di questa maratona, nome d'arte di Guglielmo Bruno, ovviamente Willy Peiote, nasce a Torino il 28 agosto dell'85, genitori musicisti, con il suo nome ha riunito Wiley Coyote e il Cactus Peiote, inoltre Willy è un riferimento al suo nome di battesimo che è Guglielmo, poi parleremo ovviamente anche del suo nick perché mi interessa andare a scavare e vedere se magari c'è un po' di lore sui cartoni in più dietro a questo nick. Si è laureato in scienze politiche con una tesi sulla rivolta di Los Angeles del 92 e Porno Nostalgia è il suo ultimo album. Adesso smetto di leggere, vado ad improvvisare con una bella intervista esclusiva, ma prima ragazzi ovviamente sigla. Ciao Willy, allora innanzitutto benvenuto e grazie di concedermi il tuo tempo di domenica, non so se sei un fan del calcio, insomma però oggi è una giornata importante, quindi tutti i talent mi hanno un po' schivato per questa storia dell'Inter e del Milan, quindi grazie di fuori. Ho giocato il toro, ho già giocato venerdì, quindi non... Ok, allora io voglio partire dall'inizio perché come dicevo nell'introduzione i tuoi genitori erano entrambi musicisti, questa cosa sicuramente, credo insomma, ti è stata d'aiuto penso nella tua carriera. Hai parlato anche spesso di tuo padre, no? Che hai seguito anche in tournée, mi puoi dire che rapporti sei con i tuoi, con tuo padre e soprattutto in che cosa ti hanno influenzato nelle tue produzioni? Ma guarda, sono fortunatamente ottimi rapporti, poi secondo me i rapporti migliorano quando te ne vai di casa, sicuramente i rapporti con i genitori migliorano. In realtà sì, mio padre suonava per gioco, non per professione, però ha girato anche un po' l'Italia, mia madre invece suonava il pianoforte, ma come moltissime persone in Italia, quindi c'è stato un periodo della mia vita in cui ero l'unico che non suonava in casa, perché anche le mie sorelle più piccole suonavano una al violino e una all'arpa. Ah, madonna! E poi sono l'unico che è rimasto a suonare però, quindi il paradosso è quello. In realtà come mi ha influenzato? Ma sicuramente essere andato con lui un paio di volte quando ero adolescente in giro per quelle date che faceva fuori da Torino mi ha sicuramente influenzato perché mi è piaciuto molto l'ambiente, mi è piaciuto tutto quello che si faceva, anche le parti noiose mi piacevano, nel senso che poi i viaggi in furgone, il soundcheck, io mi occupavo anche di vendere i cd dopo il concerto, quindi comunque mi ha aiutato anche a sbloccarmi sotto tanti punti di vista nell'interazione con gli altri. Quindi quello sicuramente mi ha influenzato perché mi divertiva molto, dalla sala prove ai viaggi in furgone ho capito che mi piaceva fare quello. E anche durante i tuoi concerti ti piace seguire il making of di un concerto? Cioè ti piace seguire ogni fase oppure deleghi un pochino di più adesso? Delego nel senso che spesso faccio in modo che le idee le abbiano persone che sono più portate tra luci e messe in scena, però poi seguo tutto nel senso che la fortuna poi di seguire così da vicino come nel mio caso il progetto e avere nella parte di produzione comunque i ragazzi con cui abbiamo iniziato o con cui lavoriamo da molto, fa in modo che seguiamo tutto dall'inizio. Quindi io seguo tutta la filiera, ma mi occupo anche delle parti più, come dire, di gestione proprio burocratica anche dei concerti. Ok, perché immagino gli artisti di oggi sono molto gelosi delle proprie cose, no? Dagli album ai concerti e ho sentito sempre più persone, soprattutto tra i giovani, che amano seguire tutto, no? Perché sono dei perfezionisti, insomma, dato che ti hai seguito anche il making of e sei rimasto affascinato da questo, immaginavo una risposta del genere. Non sono capace a fare il fonico, a fare il giocato. No, quello certo. A fare i professionisti, però sì, mi piace seguirli insieme a loro, avere delle idee, sì. Poi ho letto una tua dichiarazione che mi ha colpito parecchio, perché mi ritrovo un po' in queste parole. Hai detto che dall'adolescente ti stavi sul cazzo. Perché ti stavi sul cazzo? Ma perché? Allora, se cazzo che l'adolescenza sia un momento comunque di grandi dubbi e grandi interrogazioni su se stessi. Non è che adesso io mi goda tanto la vita, ossia tanto più abituato a essere sereno, ecco. Però sicuramente l'adolescenza lo ero molto di più, era quel tipo di rabbia che però diventa un limite nei rapporti anche con gli altri, nel sentirsi, nello sbloccarsi, no? Mi sentivo molto più bloccato, perché mi facevo molte più paranoie e molti più problemi di quelli che sarebbe stato necessario. Anche lì non credo di essere stato l'unico in quel periodo. Però, esatto, però poi col tempo ho capito che in realtà tutta una serie di cose che mi facevano un po' paura, no? Nell'approcciarmi agli altri, al mondo esterno, in realtà era proprio solo una questione di, come dire, non dico di coraggio, ma proprio solo di provarci e basta, perché poi in fondo avere così tanto paura di un rifiuto, eccetera, è un limite che ti poni da solo, quando poi in realtà, insomma, nella vita fortunatamente si supera tutto, ecco. Ma ora invece ti stai ancora sul cazzo oppure è migliorato il tuo rapporto e il rapporto con te stesso? Vado a giorni alterni, devo dirti la verità. In realtà, ma credo che l'idea di starci un po' sul cazzo, quindi è comunque una forma di perfezionismo, è una forma anche di tenersi, come dire, sull'attenti. Non voglio arrivare al punto di piacermi, ecco, perché penso che sia un po' la morte anche dell'arte. Quando un artista si piace moltissimo diventa più uno che si mette in mostra che uno che ha qualcosa da raccontare. Almeno ho sempre avuto questo dubbio qua. E quindi a giorni alterni sì, mi sto ancora sul cazzo. Ci sto lavorando però. Quindi sei d'accordo con gli artisti che dicono che un po' di ansia, un po' di paranoia, insomma, aiuta a comporre, aiuta a scrivere, aiuta ad essere dei buoni artisti? Sì. Secondo me sì, aiuta tutto, nel senso che l'ansia, se non diventa prevaricante, se non diventa invalidante in qualche modo, che non ti fa fare le cose, senza dubbio è utile, ma dallo scrivere, nel senso pensando anche a cosa stai scrivendo e quali sono anche le aspettative degli altri, in qualche modo, alzando l'asticella, ma anche salire sul palco è fondamentale, avere un minimo di tensione perché, insomma, fa anche parte del godersi le cose, avere un po' di tensione prima di farle. Credo che un calciatore, quando smette di avere quel tipo di tensione, quando scende in campo, smette di giocare a pallone a un certo punto e così vale anche per gli artisti, credo. Se perdessi completamente la tensione prima di salire sul palco non avrebbe più senso salirci, perché si perde anche l'adrenalina. E qual è la cosa che ti dà più adrenalina? Cioè salire sul palco oppure c'è dell'altro? Cioè quali sono le ragioni che ti spingono a continuare nella tua carriera? Sicuramente da sempre stare sul palco è uno dei luoghi in cui mi sento più a mio agio, forse quello in cui in assoluto mi sento più tranquillo. Ovviamente cambia quando hai poi di fronte un pubblico che è venuto lì apposta per te, è anche più, come dire, più facile gestirla, ovviamente, perché sai che devi sì confermare l'idea che hanno di te, però comunque il più è fatto, se sono venuti e hanno pagato un biglietto. Sicuramente anche il fatto che esista qualcuno che negli anni mi ha dimostrato di ascoltare, di aspettare quello che faccio in qualche modo, di condividere, eccetera, è uno dei motori per cui penso abbia senso continuare a farlo. Oltre al fatto, come ti dicevo, che finché penso di avere delle cose da dire, penso le dirò. Nel momento in cui ho il dubbio che sto ripetendomi troppo o che non c'è più lo slancio di prima, credo sia il caso di smettere, però ad oggi non è ancora successo. Non è facile, non è facile, quindi è sempre molto bello avere qualcosa da dire, soprattutto qua. A proposito di frustrazioni, paranoie e qualsiasi altra cosa negativa, nella tua carriera, prima della musica ovviamente, hai lavorato anche in un call center. Vi puoi dire che cosa ricordi di quel periodo? Perché non è proprio un lavoro facile. No, è vero. Ti dico, io facevo customer care, quindi comunque era inbound e non outbound, e questo già cambia moltissimo, perché non ero uno di quelli che chiamava le persone chiamandogli il cazzo a casa, però ricevevo le chiamate di clienti anche molto spesso arrabbiati, perché poi lavoravo per l'Enel e quindi c'erano casi di bollette troppo alte, luci staccate, insomma, di contratti non attivi, insomma, casini. Mi ricordo tante cose, in realtà mi ricordo, ho fatto tante mansioni diverse, nel senso che poi ho iniziato il telefono, ma da praticamente subito mi hanno messo a fare il documentale, quindi non ero più al telefono, e poi ho fatto il formatore per lunghi anni, quindi in realtà insegnavo agli altri a fare cose che io non avevo voglia di fare. Però loro riuscivano a fare bene, quindi tecnica. Forse ero bravo più come formatore che come performer nel call center. Mi ricordo tante cose, mi ricordo che, ad esempio, la parte di formazione, quando ho cominciato a fare lezioni agli altri, mi ha insegnato molto anche nell'ambito della scrittura, nel senso che ho imparato a comunicare in un modo più efficace, e mi ricordo di aver cambiato anche il modo di scrivere, ma anche proprio di usare la voce nei pezzi. Quindi un pezzo del lavoro che ho fatto, per quanto brutto, e che ricordo non con troppo piacere, però in realtà mi è stato molto utile per il mio percorso anche artistico, nel senso che proprio dovendo trovare il modo di parlare con persone, per ore e ore, con persone che non hanno voglia di starti ad ascoltare, ma in qualche modo devi trovare il canale per arrivargli, perché parlare davanti a persone che non ti ascoltano è lunga, è per sei ore consecutive, è difficile anche per te. E quindi ho trovato dei modi, ho poi applicato questi modi qua nell'uso della voce, nel come dire certe cose, le ho poi applicate nella musica, e anche grazie al call center se scrivo in un certo modo. Non credevo che tu avessi preso qualcosa di buono dal call center che poi hai messo nella musica. Beh, interessante, non me lo sarei mai aspettato. Figo, molto figo. Quindi ragazzi che lavorate nei call center, magari un giorno potrete sfruttare quello che state raccogliendo oggi. Ecco, parliamo un po' del rap. Comunque te non fai, secondo me, un rap puro, o meglio, non hai fatto solo quello, hai fatto tante cose, la tua musica è pesantemente influenzata anche da altri generi, ti piace mischiare, cambiare un po' le carte in tavola. Però come sei arrivato al rap, a questo linguaggio, e soprattutto quali sono state le tue influenze, i tuoi passaggi? Come sei arrivato a diventare musicista che sei adesso? Ma guardi, io ho iniziato con il rap, nel senso che poi in quel momento che ti dicevo in cui tutta la mia famiglia suonava io o no, è perché io ascoltavo il rap e cercavo di scrivere le mie barre, già dalle medie, avevo iniziato a scrivere le prime canzoncine, che è pessime ovviamente, ma dalle medie non è che uno può scrivere Star Way to Heaven, e se lo fa, è un genio, e dategli direttamente il Nobel. No, però io mi sono iniziato prima di tutto al rap, poi appunto ho stato incentivato un po' da tutta la famiglia a avvicinarmi alla musica suonata e quindi da lì mi sono spostato, ho cominciato a suonare nel basso e ho suonato in un gruppo punk, una roba adolescenziale comunque, ne so, ero 15-16 anni. Gruppo cover, ma in realtà facevamo anche tanti pezzi nostri di cui scrivevo musica e testi tendenzialmente. Poi ho incontrato un ragazzo alle superiori che faceva i beat, che ancora oggi lavora con me, Cava, e da lì in poi ho ricominciato a fare il rap, poi ho smesso di nuovo suonato la batteria, perché il rap non portava da nessuna parte in quel momento lì, quindi ho suonato la batteria in un gruppo post-rock, sempre qua a Torino, parallelamente ho continuato a scrivere e fare il rap, finché un giorno le cose sono andate un po' meglio. Ma io ho mischiato tutto perché mi è sempre piaciuta anche la dimensione di Sala Prove, la dimensione della band, come ti dicevo, anche avendola vista da adolescente quando andavo con mio padre, mi piaceva proprio il contesto di tanta gente sul palco, i viaggi in furgone, la convivialità che c'è in un tour e poi tanti generi diversi, perché poi per fortuna fin da piccolo ho ascoltato tante cose diverse, alcune me le sono scelte, il rap me lo sono scelto io, il cantautorato italiano è una roba che mi sono scelto io, però in casa mia si ascoltava tanto, da Edie Parpola, Pino Daniele, ho avuto la fortuna anche di ascoltare tante musice diverse e quello sicuramente mi ha aiutato. Non sei uno snob, diciamo, ascolti tutti, sei un onnivoro, via, insomma. Sì, sì, assolutamente. Poi guarda, ascolto tutti, nel senso proprio che tutti i dischi che escono cerco di ascoltarli, anche per farvi un'idea di quale è il panorama nel quale ci muoviamo. Cerco anche di essere attento alle novità anche estere, poi mi faccio aiutare anche da chi con me collabora, che la fortuna che ho è di essere circolato da me da persone tutte con una grande passione per la musica e abbinata a una grande curiosità. Quello fa anche in modo che i dischi siano sempre diversi, che si riesca a mettere ogni volta qualcosa di nuovo, anche come ispirazione, come generi. Quindi cerco di essere sul pezzo, quello sì. Bravissimo, non molti la pensano come te purtroppo. Secondo me ogni cosa, ora non mi intendo molto di musica non facendola, però sono convinto che in ogni lavoro, ogni influenza dei tuoi colleghi, ogni genere, possa essere una mana dal cielo se vuoi comporre qualcosa di nuovo, vuoi mischiare i generi, cercare di fare un po' anche di sperimentazione. Ecco, io ora ti incasello, che è un termine un po' brutto, però nel conscious rap, perché comunque te hai sempre fatto del rap, non sempre, però hai sempre parlato della tua società, del tuo credo politico, insomma, delle tue questioni, ecco, hai sempre guardato la realtà e la realtà l'hai ficcata dentro i testi, che è una cosa che apprezzo sempre, ma in ogni lavoro, anche nei registi o nei fotografi. Per esempio, se ascoltiamo Io non sono razzista, ma ogni anno diventa ancora più attuale, no? È incredibile. L'ho riascoltata oggi per l'intervista ed è ancora... non è cambiata una sega, è incredibile, ma zero proprio. Per te, quindi, la musica ha questo scopo, cioè ha uno scopo divulgativo, o la fai anche per far divertire, per far ballare, cioè, oppure mischi un po' le cose, cioè, vuoi entrare nel dibattito pubblico oppure ci finisci un po' per caso? Ma io, allora, sono cresciuto ascoltando musica che comunque era, se non schierata politicamente, sicuramente attenta a temi anche sociali, civili. Un po' il rap nasce anche con quelli da lì, per quello che rappresenta come rivalsa anche sociale per una popolazione come gli afroamericani che in America ha sempre subito discriminazioni. C'è la componente poi di musica che invece ascoltavo io, dai Rage a Casta Maschina, i 99 Pozze, ma anche gli stessi Subsonica, Manu Ciao, insomma, sono cresciuti in un periodo storico nel quale c'era tanta componente, non dico appunto politica, ma sicuramente sociale nella musica. Quindi un po' è anche dovuto alla formazione che ho avuto nel crescere, ascoltando certa roba. Anche i cantautori italiani sono sempre stati, non dico schierati, ma appunto attenti al sociale. Io non ho mai pensato che però fosse l'unico obiettivo della musica. Si deve combinare col fatto che comunque di intrattenimento si parla, la gente ai concerti vuole anche divertirsi, ma io mi ricordo che ai concerti di questi artisti di cui ti ho fatto i nomi ci si divertiva anche molto, si ballava, si saltava e poi poteva anche succedere che ci fossero dei ragionamenti e qualcosa che ti lasciasse anche dopo il concerto un modo di ragionare. Quindi io credo si debba fare, non in tutti i pezzi, ma si possa fare entrambe le cose, come far muovere il culo insieme si può fare. È bella questa, questa la riutilizzerò sicuramente. Ora voglio parlare del tuo nome che magari è una domanda ridicola, ma siccome sono un grande fan dei cartoni animati soprattutto gli anni 20, 30, 40, insomma sono parecchio fissato, la scuola americana mi ha dato tutto, il tuo nome è sicuramente, cioè spicca ecco, perché è una sorta di modifica di Wiley Coyote poi arrivato in Italia con Willy, con la Ypsilon. C'è magari qualche hobby di cui non hai mai parlato, cioè segui i cartoni oppure è una casualità insomma a questo nome. No, ovviamente ero appassionato di cartoni anche fin da piccolo, oggi ne seguo molti, ne seguo i cartoni diciamo per adulti, sono un grandissimo fan di South Park ad esempio, credo sia una delle serie animate più, anche lì, più capaci di divertire e di far riflettere contemporaneamente, quindi mi piace molto anche per quello. Vabbè, anche molti dei nuovi, come dire, da Rikhe Morti a altri, adesso mi ricordo c'è una nuovissima, Deep State se non sbaglio, che è anche quella interessante e riflette sempre, anche lì, ci sono sempre dei spunti spesso di riflessione anche satirica e quindi ho sempre cercato di fare attenzione anche a quello, sì ho preso, in Italia era Willy Coyote appunto, anche se era Wiley, però noi lo chiamiamo Willy Coyote e io ci ho messo un po' di droga dentro perché faceva ridere. Non mi puoi trovare, cioè Zuckerberg fa in modo che se mi cerchi su Facebook non mi trovi più proprio perché c'è questo termine nel... Ma dai, serio? Stai cercando qualcosa che potrebbe essere relativo all'uso di sostanze stupefacenti, sei sicuro? Quindi devi indicare due volte che sei sicuro per trovarli. Mamma mia che palle! Bello perché sì, vabbè, South Park poi penso a Bojack, ma penso anche a Prime, a tantissime altre serie animate americane che appunto fanno capire al pubblico finalmente che i cartoni non sono solamente per bambini, beh, interessante. C'è qualcosa che ti ha aiutato anche per i tuoi testi? Qualche cartone, qualche serie? South Park senza dubbio sì, nel senso che è una delle mie fonti di ispirazione, ci sono anche in passato proprio dei riferimenti molto più chiari, oggi mischio quello con la stand-up come riferimento, come ispirazione, mi piace molto la scrittura appunto per la stand-up comedy, mi piace molto la capacità che hanno i comici che fanno stand-up di mischiare di nuovo appunto la satira con l'intrattenimento e quindi sì, ti dico South Park su tutte però, perché se devo citarne uno soltanto, ti direi South Park. E invece di stand-up comedian chi segui? Segui anche la scuola italiana? La nuova scuola italiana? Assolutamente, allora sicuramente sono un grande fan ovviamente dei grandi nomi americani, sia Louis C.K., Dave Chappelle mi piace moltissimo anche perché mette tanto rap come riferimenti culturali nei suoi spettacoli, mi piace avere Ricky Gervaisi, insomma questi sono i grandissimi nomi però anche Bill Barr, Daniel Sloss, insomma Amy Wong mi piacciono molto, sugli italiani in realtà ho la fortuna anche di bazzicare spesso i loro spettacoli e di conoscerli quindi in realtà li seguo tutti, quando vengono a Torino vado a vederli tutti, quest'anno li ho visti, tutti quelli che erano in tour, tranne Ferrari purtroppo che quella sera non c'ero, ma Ravenna, De Carlo, Fabri, Rapone, ho visto anche Lundini che non è propriamente stand-up ma fa uno spettacolo meraviglioso, Michela, con cui poi abbiamo anche Michela Giro, con cui abbiamo collaborato, quindi comunque vado sempre perché sono proprio appassionato. Bellissimo, e io ne ho avuti qua tantissimi e si sente proprio che anche loro hanno voglia di raccontare qualcosa, che hanno capito che lo show business sta cambiando e che c'è spazio anche per questa nuova forma di comicità. Ci siamo svegliati a mio parere un po' tardi, ma... L'importante però è svegliarsi, dai, e che il pubblico abbia capito soprattutto. Ecco, invece parliamo di Sanremo perché io ho sempre visto a Sanremo come un agglomerato enorme, un'ansia continua, io non potrei avvicinarmici mai a una roba del genere perché la vedo come una roba molto programmata, inquadrata. Te invece che sei una persona molto libera, molto diretta, molto schietta, come l'hai vissuta l'esperienza Sanremo? Allora, bisogna partire dal presupposto che io l'ho vissuto in un anno in cui non era esattamente il Sanremo classico, nel senso che noi eravamo comunque in lockdown, quindi eravamo chiusi in hotel tutta la settimana, uscivamo, io uscivo solo per andare all'Ariston e poi venivo riportato in hotel, in incubazione. Quindi è stato un po' strano, però ti dico, allora, sicuramente mi ha messo molto alla prova e ho imparato tante cose a livello professionale perché appunto è un palco che ti mette ansia, nel senso che tu sai di trovarti di fronte poi a 10 milioni di persone quando sei su quel palco, quindi c'è una risposta forte e le senti tutte, non le vedi ma senti la pressione di 10 milioni di persone, è tutto molto, è un carrozzone anche, quindi poi vieni comunque trattato tutti dentro una centrifuga, quindi sale uno, scende l'altro e via andare così perché show mas gone, a prescindere, però tu sai che hai i tuoi tre minuti di tempo per non sbagliare niente, fare bella figura e sono comunque, condensare tutta l'adrenalina di quei giorni in tre minuti non è semplice però ti dico io ho sempre pensato che non sia tanto il palco a fare l'artista ma l'artista a fare il palco nel senso che qualunque sia il luogo dove ti esibisci sei tu a decidere cosa dire, non è il palco che ti influenza, quindi per quanto così come idea Sanremo non fosse proprio quello che uno si aspettava da me dopodiché se come nel mio caso ci sono andato facendo esattamente la mia roba esattamente come volevo io in realtà Sanremo era un contorno non sono stato cambiato da Sanremo e non ho cambiato io Sanremo perché poi Sanremo non lo puoi cambiare mai e non c'è possibilità di cambiamento capito tra l'altro ho visto che l'hai anche commentato qua proprio se non erro qua su Twitch ho visto anche delle dichiarazioni che su Twitch sono chiaramente all'ordine del giorno decontestualizzate dal contesto Twitch appunto sono un po' particolari però io le ho adorate chiaramente no beh guarda io appunto facciamo questo commento con Federica Cacciola e Daniela Fabri che sono anche loro due comici italiani le ultime serie ci avevamo un po' lasciate andare perché poi appunto eravamo sempre chiusi in hotelli io cominciavo a come dire mi stava passando la tensione quindi poi il sabato sera in particolare finito tutto è un po' scivolata di mano il controllo sai perché perché la gente soprattutto non capiva che io fossi su Twitch nel senso che pensavano fossero delle interviste che io rilasciavo in radio e ho cercato di spiegare in tutti i modi che in realtà stavamo cazzeggiando con degli amici una piattaforma che fa anche quello come però non hanno voluto sentire ragioni quindi ma ci sta perché poi sai quello è il problema che anche lì provare a cambiare Sanremo anche se radicarlo dalla convinzione collettiva io ero a Sanremo e quindi per tutti quelli che non mi conoscono io ero in gara anche se io sono andato lì sbattendomene totalmente le palle della come dire della gara esatto ma proprio della competizione io sono andato lì per dire le mie robe per dire le mie esperienze e questo però non arriva perché la gente ti considera lì come tutti gli altri anche molti dei colleghi che sono lì pensano che in qualche modo tu possa fare una cosa del genere per denigrarli ma per superarli in classifica a me non me ne fregava assolutamente io sabato mattina mi sono andato che ero secondo in classifica e ho detto a tutti anche nelle interviste che non mi interessava vincere non ho neanche comunicato qual era il numero per televotarmi non me ne fregava assolutamente un cazzo di vincere non ero lì per quello no vabbè si capiva però ecco sei stato veramente un pioniere perché fare delle dirette twitch durante la gara di Sanremo te sei in concorso e dire Reng ha cagato sul microfono io penso sia stata una delle esperienze più belle cioè almeno io ero in lacrime cioè a me quando vedo una prostituta in chiesa diciamola così io godo perché è proprio bello è proprio bello rovinare la festa capito esatto ma poi ti dico Reng è tra tutti quello che l'ha capito di più questa cosa ah bello cazzo ma Francesco lo si è detto esattamente il giorno dopo e si è fatto una grossa risata al telefono è tutto a posto evidentemente il punto era non è tanto quello e come viene decontestualizzato è raccontato poi attraverso canali che non sono quello in cui è successa la cosa dopodiché sì io volevo anche trasmettere un po' la situazione di prendersi poco sul serio a tutti quindi io condividevo anche i meme contro di me gli insulti che qualcuno mi scriveva io nel programma ne parlavamo perché quella è la cosa divertente ovviamente prendersi un po' tutti per il culo è evidente che poi se però vivi Sanremo come una kermesse come dire seria allora questa cosa non è concepibile se invece la vivi come la vivo io che è un bel circo in cui però non bisogna prendersi troppo sul serio era un'altra cosa però sai giustamente ho capito che il contesto fa tanto e Sanremo come contesto è un contesto legato alla tradizione anche della televisione italiana quindi è proprio un'altra cosa io ho sempre detto che quando Lundini e la Fanelli presenteranno Sanremo Sanremo cambierà completamente però chissà quando arriverà quell'anno chissà quando il pubblico poi di Sanremo che è una bella fetta di pubblico è un pubblico anche adulto e quasi anziano non credo siano del tutto pronti per quel tipo di rivoluzione lì già cambiandogli il genere musicale perché poi da quello che ho presentato io metà degli artisti in gara erano non conosciuti dal programma pubblico così come l'anno precedente insomma sono tre anni Gamadeus secondo me fa un buon lavoro anche di svecchiamento di proposta musicale e quindi già quella è una rivoluzione per cui ci vuole del tempo mettergli anche la conduzione totalmente surreale credo potrebbe mandare in cortocircuito un po' tutti sarebbe bellissimo però vedere una cosa del genere magari in un'altra vita magari in un'altra vita allora i Robespierre a proposito di Kermes festival circhi vari dici di aver rifiutato l'offerta di diventare giudice in un talent ti posso chiedere il perché di questa scelta? sì guarda allora lì nel brano non lo racconto ma perché mi è stesso tempo fa quindi non è una roba fresca lo raccontavo solo nell'ottica di dire guarda io faccio delle scelte nella vita però non capisco mai fino a che punto risulto credibile e coerente visto da fuori perché spesso poi mi vengono rifacciate altre scelte quindi cercavo solo di dire raga però capiamoci fino a che punto devo dimostrarla sta cosa è successo perché ti dico non credo sia il mio posto ma come nel caso di Sanremo non credo che la televisione sia il mezzo di comunicazione che più mi si addice perché per quanto ci sono stato dentro l'ho vista da vicino è un mezzo di comunicazione nel quale la verità non paga o meglio deve essere molto rassicurante e di conseguenza meglio mandare avanti dei buoni sentimenti un po' finti ipocriti piuttosto che dire la verità e siccome invece mi scappa sempre la verità certe volte meglio certe volte peggio come registro e come tono ma comunque dico sempre la verità la televisione non è assolutamente il mio luogo perché perché non è quello che cercano non è quel tipo di intrattenimento lì e di conseguenza questo è il motivo per cui ho detto di no ma perché sono convinto che ci sono persone molto più bravi di me a fare quel tipo di lavoro ed è giusto che lo facciano loro anche te pensi che i talent a parte rare occasioni rovinino un po' gli artisti cioè che facciano diventare i vincitori o i secondi posti che ne so io degli artisti usa e getta? purtroppo va in questa direzione nel senso che di quante edizioni hanno fatto 13 14 di X Factor più non so quante di Amici eccetera gli artisti che sono davvero rimasti poi nel panorama musicale nazionale ce ne sono proprio pochi quindi la statistica ci dice che non generano artisti che rimangono generano fenomeni stagionali nel senso che a parte grandi casi come i Maneskin ad esempio qui sono in Doli qui sono Emi Emma Marrone ce ne sono ovviamente ma sono numericamente pochi se pensi che in tre vincono ogni anno per ogni talent quindi io penso che sia proprio la struttura del programma ma vale per tutto se tu ogni anno ricostruisci la gara e devi eleggere un nuovo vincitore quel vincitore lì farei in modo che ci si dimentichi del vincitore dell'anno precedente e così all'infinito perché l'importante è avere un nuovo vincitore non portare avanti un discorso artistico con chi ha vinto l'anno prima e quindi sono strutturati per la novità e non per il restare però è proprio quello il discorso il talent è strutturato così dovremmo considerarlo un programma televisivo e non qualcosa che aiuta gli artisti a crearsi una carriera perché è un'altra cosa semplicemente a me sembrano un po' di reality alla fine un po' quello sono anche amici soprattutto è più reality che altro però si cerca un po' l'emozione l'emozione facile la lacrima il passato un po' l'interpretazione molto spesso è molto teatrale anche soprattutto nei cantanti e eccessivamente dimostrano i sentimenti in maniera eccessiva ci sono certe cose che sono un po' manieristiche un po' fuori dal contesto poi della musica che suoni sui palchi perché poi invece fai la gavetta e inizi a suonare appunto da adolescente sui vari palchi della tua città poi in Italia eccetera il contesto nel quale ti muovi è diverso come ti poni col pubblico è diverso insomma è proprio un altro mondo non è non è fatto per creare artisti poi di quel genere tolti i casi in cui gli artisti però vanno a un talent e sono già dei fenomeni e quindi poi essendo bravi rimangono eh sì tipo i Maneskin che non hanno manco vinto cioè però sono riusciti a uscire esatto loro erano un piatto a parte ma loro hanno fatto anche un po' più di gavetta non tutti hanno fatto la stessa gavetta certo parliamo del tuo ultimo album perché appunto come dicevi te hai già anche parzialmente risposto ci sono delle collaborazioni molto particolari no? è come Michela Giro appunto e anche Emanuela Fanelli che ho nominato io e mi puoi dire come mai questa scelta come è nata questa collaborazione e come hai strutturato insomma il tuo ultimo album perché hai deciso di inserirci anche queste guest ma guarda non è la prima volta penso che in un album del 2017 che era Sindrome di Tourette c'era Giorgio Montanini che faceva un intervento è vero sono nasce dal discorso che facevamo prima cioè dalla mia passione per la stand up per la satire e la comicità in generale e la fortuna che ho avuto prima da fan e poi da amico di conoscere tutte queste persone e avere la possibilità di contattarle e tirarle in mezzo nel caso di Michela nella fattispeggia nasce perché lei ha fatto un monologo sul fare schifo alle Iene proprio nei giorni in cui io lavoravo al disco e allora l'ho chiamata e ho detto guarda sto scrivendo un pezzo sullo stesso tema mi piacerebbe poter prendere delle parti del monologo e inserirle e lei si è insomma si è dimostrata molto contenta abbiamo fatto il pezzo insieme nel caso di Manuela invece mi piace molto il personaggio che racconta anche alla pezza cioè con questa sua capacità di capovolgere continuamente il punto di vista prendere in giro se stessa il pubblico tutti i vari ruoli che interpreta di volta in volta e quindi mi piaceva questa idea qua e mi piaceva l'idea di mettere nel disco qualcuno che tra l'altro mi desse torto nel senso che poi non è l'unico featuring del disco che capovolge ciò che ho detto io nella canzone e dice esattamente il contrario cioè lei arriva dopo una canzone che si tratta del furto della passione che parla insomma il cui claim è la felicità è un furto e io cercavo solo un complice lei arriva fa lo skip successivo alla canzone e chiude dicendo che la felicità non è mai un furto piuttosto è un bel risarcimento e quindi capovolgendo totalmente il discorso lo stesso vale per Samuel che in un altro pezzo invece è quello a cui io faccio le domande su cosa vuol dire diventare grandi e lui mi risponde che risposte non ce ne sono e l'unica cosa importante è farsi le domande giuste quindi mi piaceva l'idea di mettere nel disco figure amiche perché sono poi persone che conosco molto bene con cui condivido tanto che però potessero anche mostrare un punto di vista diverso se non opposto al mio perché mi piace l'idea di avere un contraddittorio dentro il disco in un'epoca in cui si fa fatica a parlare con gente che non la pensa come noi ecco eh sì è sempre più difficile tra l'altro peraltro voglio citare assolutamente lo spazio che hai dato anche a Natalino Balasso perché è stata una figura di riferimento per me sempre e che io ho scoperto grazie alla Jalappas perché ero giovanissimo insomma quando l'ho visto per la prima volta in televisione però ancora oggi soprattutto sul suo canale YouTube spara delle bombe atomiche ed è ancora secondo me troppo sottovalutato e andrebbe scoperto riscoperto e amato perché è veramente un genio per me sono d'accordo lo seguo anche io molto il film che fa ogni anno mi fa sbellicare anche il discorso della nazione che fa ogni capodanno no no lo seguo molto perché anche lui è secondo me uno dei primi che in Italia ha portato una satira che non è solo fatta di imitazioni che non è la satira di crozza per capirci cioè che sberleffi cioè così con gli sberleffi dei potenti ma attraverso le imitazioni lui è molto più caustico nella sua capacità di affondare il colpo è molto più vicino alla stand up in questo della situazione la cui siamo abituati quindi lo trovo comunque un grande poi è un grande attore adesso che a me è capitato anche di vederlo a teatro ma interpretare ruoli drammatici ed è comunque un grande attore e si crozza che hai citato secondo me ormai ha abbracciato proprio l'infotainment cioè praticamente commenta le notizie fa battute e poi intorno ci mette le imitazioni è un po' un grillo light dei vecchi tempi ecco diciamola così io la vedo così poi sì io ricordo Guzzanti con più piacere quando faceva la satira pur imitando i personaggi politici famosi ma lo ricordo un po' più ficcante ma le stesse cose che facevano alla gialappas erano talvolta più profonde poi a me crozza piace perché poi è un professionista che fa molto bene i suoi lavori però ritengo che la satira dovrebbe essere un filo più pungente ecco sì tra l'altro di questa cosa Guzzanti ne parla anche in Dov'è Mario dove appunto affronta i due tipi di comicità c'è quella da cabaret dove ti metti lì e spari tormentoni senza un freno e poi la comicità quella un po' più pungente quella un po' più intellettuale e ne spiega il conflitto secondo me molti comici affrontano sempre questo scoglio in Italia perché bisogna vendere il tormentone per farsi conoscere però voglio fare anche le cose come dico io Guzzanti è un po' l'esempio però vale per tutte le forme artistiche in Italia che devono raggiungere il pubblico nel senso che nel rap è uguale nella musica in generale è uguale nella letteratura è uguale nella comicità e nella stand up c'è il rischio che diventi uguale ora che stai raggiungendo un grande pubblico perché da genere molto corrosivo per raggiungere il grandissimo pubblico devi un po' edulcorare il tutto vale appunto per il rap e varrà anche per la stand up credo sia proprio dovuto al fatto che il grande pubblico ma non è solo una questione italiana è una questione mondiale solo che il nostro grande pubblico per un paese di 60 milioni di persone non è neanche così grande in America ne hai comunque 300 milioni di persone a cui rivolgerti più tutto il resto del mondo che capisce la lingua inglese quindi per quanto pubblico di nicchia sei comunque un artista riconosciuto a livello mondiale in Italia se hai un pubblico di nicchia hai un pubblico di nicchia basta quindi devi comunque allargare il pubblico per riuscire a raggiungere certi numeri e quello ti porta necessariamente a dover cambiare un po' il registro ma io mi ricordo una vecchia intervista di Fibra che diceva ma appena è uscito con Tradimento su MTV ancora diceva più si allarga il tuo pubblico meno parole puoi usare che già quello ti limita in qualche modo ed è vero nel senso che poi non è una come dire un'apologia dell'ignoranza però è vero che non tutte le persone hanno un registro linguistico tale per cui riescono a capire discorsi troppo complessi e quindi dipende quanto largo il pubblico vuoi rendere l'importante secondo me è che il pubblico non abbassi la guardia secondo me se il pubblico non abbassa la guardia soprattutto capisce che quell'artista si può seguire indipendentemente da ciò che dice anche fuori dalla musica si può contenere questo fenomeno secondo me però nemmeno gli artisti devono abbassare la guardia cioè devono continuare diretti è un circolo vizioso nel senso che noi se abbassiamo noi l'asticella abituiamo un pubblico a cose più facili e viceversa pensare che il pubblico voglia le cose facili abitua gli artisti ad abbassare l'asticella ed è un circolo vizioso da cui deve uscire secondo me comunque la responsabilità dell'artista cioè è evidente che non dobbiamo essere non dobbiamo prendere che sia il pubblico a farci diventare artisti migliori siamo noi che dobbiamo impegnarci quindi credo sia comunque la responsabilità dell'artista sempre per fortuna tantissimi lo stanno facendo e quindi meglio così meglio così sempre lo stesso film che chiude l'album hai detto che è stato un brano difficile da scrivere forse il più difficile della tua carriera perché? perché è un brano molto personale anche se poi ho cercato di non renderlo troppo palese ma ci sono dei riferimenti a una persona a me molto cara che è venuta a mancare l'estate scorsa che è il libro di Rienzi picchio per gli amici e quindi è stato però difficile a scrivere perché ho dovuto andare a tirar fuori delle cose che insomma erano lì e quindi comunque con cui non avevo ancora fatto pace perché l'aneddoto che racconto nel pezzo della telefonata agli europei è successo nel senso che lui mi ha chiamato quando c'erano gli europei io purtroppo non ho fatto in tempo a rispondere perché stavo facendo un evento a Bologna e poi ho detto vabbè lo richiamo lo richiamo poi lo richiamo e non ho mai fatto in tempo a richiamarlo non so c'era questo passaggio qua e in qualche modo è stato difficile entrare così dentro quel tipo di dolore e quel tipo di come dire di sensazione di vuoto che si era creato nel momento in cui non ero riuscito a dire così chiaramente a una persona che per me è stato importante come punto di riferimento sotto tanti punti di vista tutte le cose che avrei voluto dirgli perché poi lui è stato per me compreso il film che cito dentro la canzone questo film si riferisce anche a un film dal titolo Santa Maradona in cui lui un film ammiettato a Torino e tra l'altro ho scoperto che alcune scene sono state girate qua sotto al balcone della casa nuova che ho preso e non lo sapevo l'ho scoperto dopo il disco tra l'altro però la cosa è questa lui con quel film lì mi ha dato un punto di riferimento perché io volevo essere proprio il suo personaggio Bart di quel film poi ho avuto la fortuna tra una cosa e l'altra di conoscerlo di lavorarci insieme perché lui ha diretto anche il video della tua futura ex mogna e di diventare amico e confrontarmi con lui sulla sua visione dell'arte ed era una persona con una visione molto figa dell'arte un artista che per quanto talentuosissimo forse il miglior attore della sua generazione non ha riscosso la fama e il successo che secondo tutti meritava perché ha fatto anche tante rinunce nella sua carriera ha rinunciato a tanti film se non era convinto artisticamente di un progetto non lo sposava è lui che mi ha insegnato che il coraggio vale più del talento cioè per essere un artista di un certo tipo è più importante essere artisti coraggiosi che non talentuosi non bisogna scendere a compromessi si era veramente un attore alla vecchia maniera proprio quello la vecchia scuola cioè devo mi deve piacere la sceneggiatura mi deve piacere il regista deve andare a un pubblico ben preciso deve valorizzare la mia performance e guarda non tutti erano come lui ce ne sono pochi pochi si contano proprio sulle dita di una mano grandissimo anche prima nel senso che poi era la sua consapevolezza e la sua tutta l'accettazione del fatto che le sue scelte avessero delle conseguenze non è mai stato uno che però rosicava o che si lamentava della situazione era ben consapevole delle scelte che aveva fatto ed era convinto che fosse una scelta giusta anche se gli aveva ovviamente tolto qualcosa ed è quello che cerco di dire anche nel disco anche nel riferimento che facevi prima a Robespierre alle rinunce che ho fatto nella mia carriera non sono rinunce che ho fatto per sentirmi dire che sono bravo o per essere un artista considerato intellettuale le faccio perché non mi sento a mio agio e ho una mia idea della carriera ma non mi lamento del fatto che poi ovviamente ci sono scelte e rinunce che ti tolgono qualcosa in fatto economico e non solo quindi è normale che sia così ed è giusto che sia così per rimanere in tema cinema ma anche di televisione voglio parlare con te ovviamente nei tuoi pezzi ci sono un sacco di riferimenti al cinema e alla televisione addirittura un pezzo si chiama mai dire mai la locura che io credo sia un riferimento abbastanza evidente a Boris 3 e ora arriva la quarta stagione speriamo bene facciamoci il segno della croce ecco mi puoi raccontare che tipo di televisione che tipo di cinema che tipo di linguaggio cinematografico ti piace perché hai parlato di serie hai parlato di South Park però nel cinema tutto un po' cambia quindi volevo sentire un po' quali sono le tue influenze devo dirti la verità a parte una serie come Boris che è un cult totale perché era molto innovativa anche per l'epoca in cui è uscita e soprattutto per il panorama italiano anche io sono cresciuto guardando la Jalappas quindi comunque anche in televisione ho sempre cercato un certo tipo di comicità anche no che comunque quando eravamo piccoli noi esisteva ed era molto presente ed era comunque anche uno dei programmi più visti dalla televisione quindi credo sia anche generazionalmente riconosciuto come un punto di riferimento nel cinema devo dirti mi piacciono di più i film direi drammatici nel senso non sono tanto per i film d'azione non sono tanto per i film per le commedie ovviamente ci sono commedie e film d'azione molto belli che mi hanno ovviamente segnato ma sono più sui film drammatico nel senso che raccontino un po' uno spaccato della sua età nel senso il mio film preferito in assoluto è L'Odio di Matteo Kassovitz bellissimo anche per tutti i riferimenti ovviamente hip hop che ha al suo interno quindi mi piace comunque quel tipo di narrazione lì magari di periferie urbane di vita di vita vera o se no comunque di racconti di vita vissute ecco nel cinema cerco quello se devo dirti la verità come spettatore per ridere preferisco andare a vedere uno spettacolo di step up ecco ti sei affezionato ancora all'hip hop dei vecchi tempi perché hai raccontato e dichiarato un'intervista di aver avuto i poster in camera di Eminem e Fabri Fibra questa cosa mi ha fatto sempre sorridere ti piace ancora l'hip hop ortodosso come lo chiama Caparezza cioè l'hip hop quello un po' nudo e puro ortodosso nella misura in cui mi escludeva perché ero troppo punk no non mi è mai piaciuto quel tipo di hip hop che in qualche modo si chiudeva si autoghettizzava nel suono nel campionare da vinile nell'essere anche a livello visivo molto riconoscibile eccetera però sono affezionato a quel rap lì perché mi ha cresciuto io comunque non potrò mai prescindere dagli ascolti di Fibra dei primi dogo del rap americano degli anni 90 c'è Bicchi Notorious B.I.G. per me è comunque sempre stato un punto di riferimento per quanto sono tutti artisti che hanno anche mischiato perché poi non sono stati così ortodossi nelle loro scelte io ti dico il rap per me è stata appunto anche un mi dava anche un senso di appartenenza perché poi appunto frequentavamo gli stessi posti eravamo comunque una comunità in qualche modo nei primi 2000 quando io iniziavo a fare il rap non era un genere mainstream e quindi ci dava anche un senso di far parte di qualcosa di una comunità quindi non potrò mai prescindere da quello altrettanto mi ha insegnato a fare la musica cercando qualcosa in più dell'intrattenimento e quindi senza dubbio per me è comunque importante dopodiché non sono mai stato un ortodosso nel senso che io ho sempre ascoltato anche artisti all'estero che mischiavano tanto per dire i The Roots in Italia in quegli anni non sarebbero stati considerati un gruppo rap perché avevano un sacco di influenze suonavano con una band eccetera ma in America sono un punto di riferimento da 30 anni per la comunità hip hop quindi anche all'estero ci sono fortunatamente state tante cose diverse che mi hanno spinto in realtà ti volevo fare un'ultima domanda su tutta la tua carriera o meglio vorrei chiederti se guardando alle tue prime produzioni guardando al te stesso di qualche anno fa che cambiamenti noti cioè se li noti soprattutto e poi che artista sei oggi rispetto al passato ma credo di non essere cambiato moltissimo se non il fatto che quando hai 20 anni non hai le sfumature e quando ne hai 35 fortunatamente le impari a capire che non è tutto bianco o nero che ci sono tante sfumature che è tutto più complesso di così quindi andare un po' più in profondità proprio nella complessità dei ragionamenti a livello proprio di imprinting artistico non si è mai andato lontano da dove ho iniziato l'idea è sempre quella di metterci un po' di ironia per raccontare il mondo che circonda e le difficoltà che attraverso io e che penso attraversino molti altri nel vivere la vita nel mondo del lavoro nel rapporto anche con il mondo della musica dell'industria ma nei rapporti interpersonali io cerco semplicemente di raccontare delle esperienze da sempre cercando di metterla sul ridere però anche cercando di andare a fondo delle questioni che non mi piacciono di parlare di ciò che non mi piace anche perché sai penso che ci sia così tanta offerta di musica presa bene e leggera nel senso proprio di approccio all'amore è tutto bello e va tutto bene che quindi ci stia anche una proposta alternativa poi ognuno di volta in volta sceglie cosa vuole ascoltare però io mi sento comunque molto vicino al ragazzo che iniziava a fare questo lavoro poi ovviamente sono cresciuto come essere umano e questo mi ha sicuramente cambiato non so migliorato in certi punti peggiorato in altri però credo di essere molto vicino a quello che ero ecco secondo me bisogna non cancellare proprio totalmente tutto quello che si è fatto in passato bisogna un po' ricordarsi da dove si è venuti per migliorare molti invece cancellano proprio fanno tabula rasa per esempio perché non vogliono avere a che fare niente col proprio passato quindi ci sta come riflessione secondo me ti aiuta a non fare gli stessi sbagli e ti aiuta magari a percorre estrarre nuove è sempre importante ma sai sempre fa parte del perfezionismo cioè appena ho finito un disco io comincio a ragionare su cosa ho sbagliato in quel disco lì subito appena chiudiamo il master che non si può cambiare e comincio già a pensare a cosa poteva essere fatto meglio però quello è un motore da lì a cancellare ciò che è stato no perché poi provo grande tenerezza per il ragazzo che ha iniziato a fare questo percorso per tante cose quindi non voglio rinegare quel passato perché in realtà fa parte di me e se sono la persona che sono oggi è evidentemente iniziato lì ovviamente farei delle cose diverse se ti andassi indietro però ti dico provo davvero la sensazione che provo nei confronti di quel ragazzo che scriveva a 18-19 anni è una grande tenerezza è anche una forma di rispetto per il fatto che comunque crederci quando non ci crede nessuno è comunque una forma di coraggio che non pensavo neanche di avere quindi guardando a mie spalle ogni tanto riesco anche a essere vagamente fiero di me è un bellissimo messaggio per chiudere questa chiacchierata perché secondo me dai anche tanta speranza ai giovani musicisti i compositori insomma che stanno cercando di emergere e speriamo che trovino anche il loro posto perché sarebbe bellissimo quindi grazie mille Willy per queste parole di ottimismo grazie per questa conversazione perché è stata molto bella e ti auguro il meglio grazie di cuore e un abbraccio in bocca al lupo per tutto ciao ciao una giornata ciao ciao ciao